e io poi li metto insieme, faccio piccoli video non so se vanno, non li ho mai fatti le patatine fritte per i bambini, vogliono le patatine fritte premasticate come? come? serve un ripiano? non mi piace il video serve un ripiano zio? ci stiamo? ci stiamo tutti? c'è le sedie per tutti? sto andando eh zio no no zio arrosto questo, arrosto che bracci come? buona? buona chitaccia consente facciamo questa ripresa ecco queste sono pronte ma li mangiamo noi però eh vannosa senti? no 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 no